Salve amici, oggi vi voglio parlare di come affrontare le patologie autoimmuni perché la sempre più diffusa è la convinzione che io devo fare dei sacrifici, delle diete di forte mente restrittive, devo togliere mezzo mondo, questo è proprio una telefonata proprio di ieri di una signora che mi ha detto che ha girato vari professionisti e chi gli ha tolto quello perché era responsabile della sua patologia, poi è andato da un altro professionista che gli ha tolto altre cose perché anche lui era convinto di altre cose, insomma ha girato 3-4 professionisti e tutte e 3-4 hanno tolto diverse cose, insomma la povera signora nella telefonata mi disse ma dottore ma io devo cominciare a morire di fame, solo così riuscirò a risolvere, ecco si è creata questa sorta di confusione che le patologie autoimmuni si gestiscono togliendo tutto, ormai da tempo che parlando di dieta antinfiammatoria ho messo anche se sul mio sito francescoveritano.it ho messo i punti sui cui io vado a lavorare, cioè che non è solamente l'alimentazione, anzi certe volte provocatoriamente dico che non esistono diete miracolose, non ho mai visto perché se io non modifico il famoso faccio un cambiamento di stile di vita perché uno stile di vita errato mi ha portato diciamo alla morte autoimmune, ecco un cambio sì che poi è anche di alimentazione, no? visto che queste morte autoimmune stanno in netta crescita sicuramente anche il motivo è la nostra alimentazione occidentale di oggi quindi strappina di zuccheri, edulcoranti e bla bla bla, sicuramente si deve intervenire anche su quello però non è solamente su quello soltanto il togliere eccetera eccetera degli alimenti che mi può risolvere diciamo la problematica perché il sistema immunitario si è sregolato perché io sto facendo, ho fatto, ho condotto uno stile di vita errato, che voglio dire? magari ci sono problematiche emozionali, emotive, quindi le emozioni contano tantissimo nella gestione delle patologie autoimmuni, perché se io lo vedo molto spesso che le persone mi vengono quasi sempre in orto simpatico tono, quindi mi vengono più attivate, hanno stress molto alto non riposano bene, sono sedentarie, quindi hanno tante cose che dobbiamo prima sistemarle magari insieme, facendo una ripulita dell'alimentazione, cercando di portarla a mangiare il più sano possibile ovviamente all'inizio è possibile fare delle scelte, il glutine, le caseine, fare delle scelte di questo tipo però poi piano piano cominci a lavorare, mentre fai queste scelte, cominci a lavorare su tutto il resto perché altrimenti è un lavoro perso in partenza, perché uno dice, va bene, aspetta un attimo io non, puoi ti sentire dire, ma io non sono andato da questo professionista e non ho risolto non l'hai risolto perché ovviamente l'approccio deve essere integrato su queste cose che ho detto se tu vuoi cambiare, devi farlo in maniera seria infatti io dico, certe volte alle persone che vengono in studio faccio uno schemino nella mia lavagnetta luminosa nella mia lavagnetta che ho, diciamo, in studio dove faccio i miei scalabocchi per parlare e facendoli vedere alle persone voi mi venite al bivio, dico alle persone dove devi essere tu il protagonista e tu essere responsabile un pochino della tua salute perché ovviamente tu sei quello che sceglierà di andare verso sinistra la strada, diciamo, sbagliata continuare a percorrere questa strada sbagliata o decidere di andare verso destra che è una strada dove invece troverai poi, diciamo, la risoluzione della problematica però aggiungo un'altra cosa che anche se percorre la strada di destra non sarà mai una strada lineare è normale, non esistono strade lineari io nella vita non ho mai trovato strade lineari ma ci saranno dei momenti in cui ci saranno tutto sta andando bene ci saranno dei momenti in cui si ha un peggioramento ma io dico sempre che attraverso il peggioramento si passa, si arriva poi a un miglioramento perché a volte, diciamo, noi vediamo sempre in modo negativo i peggioramenti delle situazioni oppure delle cose che si stanno slatentizzando e magari si passa attraverso delle cose negative però queste non devono essere vissute come negative ma come opportunità per arrivare alla risoluzione della problematica spero che ho lasciato un segno in questo video per capire veramente il caos che c'è intorno al discorso nutrizionale perché se vuoi fare e risolvere la problematica autoimmunitaria devi cercare veramente di regolarizzare il tuo sistema immunitario lavorando a 360 gradi spero che ti sia piaciuto il video se ti è piaciuto metti un like puoi seguirmi sui vari canali social quindi su facebook, instagram e youtube ciao